Mentre Caccia è finalmente rientrato a calcare il campo dopo un lungo infortunio, a Dempoli, oltre all'attaccante su cui non si forzano i tempi, non ci saranno nemmeno gli infortunati Cascione, Di Noia e De Guelfi. Unico dubbio, Doncor. Concentrarsi solo su un giocatore significa che se quello va fuori condizione, non dico che si fa male, ma se va fuori condizione la squadra è morta. L'importante è che la squadra ha un suo modo di fare la fase offensiva come deve fare la fase difensiva e quindi deve continuare a fare le cose che... Il segreto non sta nel single, il segreto sta nell'atteggiamento della squadra. Di fronte ci sarà la corazzata Empoli, che dopo la discesa in Serie B è una delle candidate alla pronta risalita, ma per ora sta avanzando in campionato col freno a mano tirato a fronte dell'organico che possiede mister Vivarini. Io all'avversario non ci guardo poi più di tanto, è normale, so che andiamo a Empoli, so come gioca l'Empoli, però mi fermo lì. Nel solito giocatore non c'era niente a cosa dire, Clunic, Cabuto, in generale la squadra è forte in tutti i reparti, poi c'è qualcuno che secondo me in questa area fa la differenza. Ritrovo due miei ragazzi nel Carpi, Romagnoli e Lollo, anche Sec, l'ho avuto l'anno scorso, tre miei ex giocatori, due immortali.